Conferenza internazionale 20 anni da Rio 92, siamo con il professor Enrique Toscano dalla Germania e a lei chiedo quale sarà il contenuto del suo intervento quest'oggi? Allora mi hanno chiesto di parlare della nuova politica energetica in Germania, questo è un punto molto importante perché è il primo paese che ha un'economia enorme di mercato che sta cambiando il modo di produrre e distribuire l'energia elettrica. Allora sta passando dal nucleare alle cosiddette energie rinnovabili che fondamentalmente in Germania implicano l'installazione di paleoliche, fondamentalmente offshore, allora sul mare, e pannelli solari. Queste due energie hanno vari problemi, ma le più importanti sono che sono intermittenti, allora queste energie bisogna immagazzinarle in qualche maniera per poi essere utilizzate. Inoltre la Germania ha il problema che la produzione fondamentalmente eolica di energia si produce nel nord, ma il consumo, essendo più industrializzato in Italia, più industrializzato il sud del nord, allora bisogna trasferire questa energia dal nord al sud attorno ai 1200 chilometri. Naturalmente questo implica degli investimenti notevoli per modificare le reti di distribuzione energetica. La chiusura del nucleare implica un altro problema, perché il nucleare è noto che non emette CO2 nell'atmosfera, neanche l'energia rinnovabile, ma rimpiazzare tutta la produzione nucleare con dell'energia rinnovabile implica per la Germania un sforzo economico enorme, soprattutto perché questi vengono pagati dai consumatori. Gli utenti dell'energia sono quelli che in questo momento stanno pagando, o attraverso direttamente la voletta energetica o attraverso la fiscalità generale. E' ancora la situazione molto fluida, fino al 2022 la Germania dovrà chiudere questi reattori nucleari, perché così è stato deciso dal Parlamento. Vedremo, ancora non si sa, se veramente queste energie rinnovabili raggiungeranno le aspettative che loro si aspettano. Grazie professore.